Giamal deve rispondere alla domanda finale per vincere 20 milioni. Come ha fatto ad arrivare fino a qui? Come ha fatto ad arrivare fino a qui? What a winter town conference fovin' around Gave hope and a brand new day Imagine all the girls Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha And the boys Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha The Millionaire dal 5 dicembre al cinema Rispondi alla domanda e sul sito www.luckyred.it e vinci un incredibile viaggio in India